Ciao da Absim, non è bello quando una persona che pensate sia fintamente equilibrata ma che in realtà abbia una preferenza abbastanza latente tira via la maschera? Quando tirano via la maschera un po' di soddisfazione c'è, devo dire, no? Perché pensi, caspita però, io sono convinto che questa persona abbia una tendenza particolare, però non la è esplicita e quindi non posso spingermi a dire che ce l'abbia, non la posso veramente accusare, non posso provare la soddisfazione di aver avuto ragione. Sì, magari sono sentimenti un po' bassi ma sono anche sentimenti molto umani, capita ad ognuno di noi e allora facendo riferimento a Beppe Bergomi dobbiamo dire che finalmente ha tirato via la maschera, ma veramente ha tirato via la maschera? O almeno questo è quello che penso io e poi mi rendo conto che ci sarà, c'è già chi lo giustificherà, chi lo giustifica e dice no ma in realtà si è trattato solo di una battuta oppure pur ammesso che abbia tirato via la maschera che c'è di male, non ha fatto niente di male, non mi sembra il caso di esagerare. Capisco, ci saranno reazioni di ogni tipo, intanto vi invito dopo alla visione di questo video a guardare l'episodio di cui vi parlo o quantomeno se lo fate adesso poi tornate perché al link in descrizione vi mando al video che è comparso su Twitter, non so se verrà rimosso, intanto c'è, intanto c'è. Video su Twitter che vi racconto comunque, che vi racconto, di che cosa è successo, non so esattamente quando ma parliamo di questi ultimi giorni. In uno stadio, credo a fine partita o a inizio partita ma credo più a fine partita non si capisce bene quale stadio sia, una persona, uno spettatore chiama Beppe Bergomi che era lì di passaggio in tribuna per un video saluto. Un video saluto, quindi c'è questo video selfie, c'è questo spettatore con probabilmente lo smartphone in mano, riprende Beppe Bergomi che consente a questo saluto, saluta insomma la persona che ha richiesto, la quale poi dice Sì però zio, io sono milanista, però ti stimolo stesso. La risposta di Bergomi è, l'importante è che non sei juventino. Ora ditemi voi come interpretate una frase del genere, che ripeto ci può stare tutto, ci può stare tutto, io capisco anche chi dice, no ma è semplicemente una battuta, non c'è veramente nulla di male. Però io voglio dire questo, nel momento in cui viene accusata Sky di essere Sky Juve da tanti, soprattutto interisti, soprattutto interisti, una frase del genere è come si colloca? No perché poi quando noi, Juventini o meno, ci rendiamo conto che in studio per esempio a Sky Calcio Club c'è una quantità di non juventini o specificamente di interisti un po' eccessiva, per esempio con Cambiasso, per esempio con altri ospiti che sono capitati di tanti tanto e lo stesso Bergomi, veniamo presi per pazzi, veniamo presi per persone fuori dal mondo, ma cosa vuoi, ma già ti parlano sempre della Juve, sempre di Ronaldo, adesso ti lamenti, cioè in realtà siete un po' fuori dal mondo voi, cioè chiaramente la redazione di Sky è molto diversificata, e qui voglio entrare in un discorso, io non voglio che il giornalista, che in questo caso è Beppe Bergomi, perché è un ex calciatore capitano dell'Inter, quindi chiaramente interista, non deve neanche provare a nascondersi perché lo sappiamo e glielo concediamo, glielo concediamo, ma il giornalista qual è Beppe Bergomi è chiaro che abbia delle preferenze, perché sono uomini, cioè non devono neanche essere robot, io da questo punto di vista preferisco mille volte una Dani che si espone sempre, che tira fuori tutto l'entusiasmo, che risulta coinvolgente nei commenti e nelle telecronache perché è molto appassionato e non nasconde le sue preferenze, che sono in realtà extra Italia perché è tifoso di calcio argentino, calcio sudamericano, piuttosto che i finti perbenisti, finti equilibrati come Beppe Bergomi, perché Bergomi negli anni che cosa ha provato a fare? Ha provato ad essere un commentatore equilibrato e distaccato del calcio italiano, però in realtà è sempre stato interista, ma a questo punto scopriamo, e qui viene la differenza, che lui è anche anti-Giuventino, perché se non sei anti-Giuventino, l'ho capito che nel momento in cui sei davanti ad una telecamera sai che quello può andare, quel video può finire dovunque, quindi non è stupido, probabilmente l'ha detto sapendo che il video sarebbe stato diffuso, e allora possiamo tornare al discorso ma è una semplice battuta, sì però comunque è una battuta in cui tu hai detto l'importante è che non sei giuventino, cioè io, persino io che sono giuventino, forse una cosa del genere, per palesarmi anti-interista, non la farei mai, perché cerco di avere veramente rispetto, veramente rispetto anche di chi magari a volte non lo merita, ma in questo caso la figura di Bergomi è talmente delicata, perché poi non è un commentatore, un telecronista, un giornalista marginale su Sky, come quelli di cui conosciamo la voce, non ricordiamo il nome, non sappiamo neanche il volto e ce ne sono purtroppo, che sono magari anche molto bravi, è uno di punta, cioè Bergomi, dice Sky, dici caressa Bergomi tuttora, principalmente, e allora come puoi andare poi a commentare la Juventus? Il punto è questo, cioè veramente possiamo, a questo punto Sky davvero può continuare ad assumersi la responsabilità di consentire a Beppe Bergomi di fare il commento tecnico delle partite della Juventus in diretta? No, perché poi tra l'altro gli episodi noi avevamo già avuto sentore, cioè basta proprio riguardare, recuperare alcune delle cronache di Bergomi con la Juve negli anni, non solo di recente, per rendersi conto di quanto in certe situazioni abbia sofferto ai gol della Juve, alle rimonte della Juve, o abbia cercato in qualche maniera di dire che c'era un fuorigioco, un rigore, ma non per mala fede, perché quando sei tifoso ti viene naturale, stiamo parlando tra tifosi, io sono tifoso, voi che guardate siete tifosi di calcio, altrimenti non sareste qui, quindi lo sappiamo e lo sapete molto bene, che quando siamo davanti alle partite ne diciamo di tutti i colori, e ha sempre ragione la nostra squadra del cuore, anche quando proviamo ad essere equilibrati, la tendenza è quella, quindi se Bergomi è interista, ed è una cosa, ripeto, che gli concediamo, perché tanto si sa, come pure Marocchi e probabilmente Juventino, perché con la Juventus tra l'altro ha vinto la Champions League, come pure Del Piero è sicuramente Juventino, ma Del Piero ha un ruolo molto marginale a Sky e soprattutto non fa le telecronache, ne ha fatta una sola, abbiamo pure perso 2-0, che era l'anno scorso al Wanda Metropolitano, all'andata di ottava finale contro l'Atletico Madrid. Se dicevo Bergomi è interista, come ognuno ha la sua fede calcistica, anche giornalisti, anche altri, ecco per esempio mi viene in mente Condò che tifa per la Triestina, quindi non dà fastidio a nessuno, tra virgolette, va bene questo, ma se poi hai anche una tendenza anti-Juventina, o comunque questo tuo interismo, pur non essendo anti-Juventino, ti spinge a non essere equilibrato nei confronti della Juventus, permettete che a me sta cosa dia fastidio, a me, a voi, a tanti tifosi della Juventus. Quindi, sinceramente io spero che Bergomi non faccia mai più la telecronaca della Juventus, non solo per questo video, ma soprattutto per questo video, perché poteva evitare di esplicitare questa cosa in questa maniera e probabilmente non saremmo stati qui a rimarcare certe cose, probabilmente ci saremmo anche un po' a suoi fatti, avremmo dimenticato certe uscite a vuoto di Bergomi, certe frasi, certi commenti che non ci sono piaciuti. Però poi c'è anche un discorso che riguarda gli altri, che riguarda appunto gli anti-Juventini, cioè come si può continuare a sostenere che sia Sky Juve, Pro Juve, una redazione in cui c'è uno giornalista, uno dei giornalisti di punta, che è Beppe Bergomi, che è interista e palesemente anti-Juventino. Io non lo so, poi a noi Juventini non piace neanche Caressa, lo sapete, lo sappiamo bene, che tra gli ultimi episodi su Sky Calcio Club ha provato per minuti interi a dire che Kulusevski è stato strapagato e che è un flop, contento lui, e l'ha detto tre, quattro volte di fila, e voleva farlo dire a chiunque, ma va bene. Non so per chi tifi Caressa, non mi interessa, probabilmente non è anti-Juventino, però certamente vi assicuro che lo Juventino medio di fronte a Sky e a Sky Calcio Club in particolare non si sente ben rappresentato, assolutamente. Non si sente ben rappresentato. Poi ovviamente non significa che è una redazione anti-Juventina, anzi, secondo me non lo è, però ci sono dei giornalisti che lo sono. Quindi mi fermo qui, vi chiedo come la pensate, andate a vedere il video per vostra testimonianza diretta su quello che vi ho detto, anche per avere un'impressione magari diversa rispetto alla mia, e grazie per il dibattito e per l'attenzione. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!